Mi devi ben trovati, allora un ccc rapidissimo, consiglio critico e cestino, cosa vi consiglio? Il grande escluso, premio strega, Aldo Busi, ed è specialista del Barcellona, edito da Lai, editore. Allora, questo è il capolavoro di Busi, Busi io lo amo molto, spesso e volentieri secondo me questo scrittore è penalizzato dalla sua immagine mediatica ed è un peccato, anche se non mi dispiace come provocatore, però è un uomo di grande cultura, è un grandissimo comunicatore, sarebbe un insegnante strepitoso se soltanto avesse un carattere un pochino più morbido, però fa parte del suo personaggio, del suo modo di essere, è così e lo si prende, o lo si ama o lo si odia. Questo libro io ho fatto molta fatica a leggerlo perché è elevato sia nel linguaggio sia nel contenuto, serve impegno, credo lo stesso impegno che ci ha messo Busi, ho seguito qualche intervista, in tutti gli anni in cui ha cercato di partorirlo, infatti lui ha detto che ha iniziato a scriverlo, poi l'ha abbandonato, a un certo punto è stato il romanzo che ha richiesto all'autore di essere scritto e quindi l'ha completato. È una ricerca stilistica perfetta, uno stile elevatissimo, la celebrazione di un grande scrittore, quindi io ve lo consiglio assolutamente, presto ne farò un vrull e vi darò anche alcuni elementi, soprattutto alcuni siti dove poter avere alcuni aiuti che a me sono stati suggeriti da Esa, un'altra amica qua su Youtube che ha iniziato a leggere il libro e mi ha dato degli utili consigli perché a un certo punto ero un po' in difficoltà e lei ha saputo darmi la cosiddetta pacca sulla spalla. Allora, cosa critico? Un libro bellissimo, un autore straordinario, lo scrittore, secondo me, non ho molti oggettivi per poter descrivere la magnificenza di questo testo, credo che l'espressione del mio viso sia più che esauriente, però cosa critico? Sono 776 pagine con i ringraziamenti, ma lo spessore è carta e velina e quindi io non so se magari con la luce si riesce a vedere, cioè se voi, non so, mi devastiamo questo libro qua, guardate alla luce, non so se si vede, cioè si vede attraverso. Quindi, per un lettore come me che ha bisogno di segnare, di evidenziare, se io avessi mai usato su questo libro un evidenziatore, una penna o un pennarello, avrei massacrato le pagine, ma anche solo un segnetto a matita, essendo lo spessore così sottile, si fa quasi uno sfregio, per esempio la pagina di Busi, sempre vista alla luce, vedete che non si vede tanto lì dietro, perché è molto più spessa, di ottima qualità. Ora, mi rendo conto che sono quasi 800 pagine, il file di uno spessore maggiore vorrebbe dire dare un peso enorme a questo libro, però è un peccato, un peccato perché, insomma, io mi sono sentita molto inibita, non poter fare un segnettino per paura di rovinarlo, mi ha procurato dei blocchi psicologici importanti, quindi peccato, io spero che, insomma, visto che anche costa 18,60 euro, spero che ci ripensino prossimamente. Cosa cestino? Allora, questo libro, che mi è stato tra l'altro regalato da Elipisto, perché gliel'avevo richiesto, lei l'aveva acquistato e quindi, diciamo così, poi è stata molto gentile e me ne ha regalato una copia, che è Il messaggio segreto delle farfalle, di questa autrice iraniana, se non ricordo male. In pratica la vicenda è in Iran e parla di quella che è lo sfruttamento femminile. Io sono molto attenta alla coalizione femminile in vari paesi, quindi l'ho letto con grande interesse. Quindi parla di questa ragazza che viene fatta sposare dei genitori a questo riccone, vecchio, bavoso, lurido, schifoso e praticamente vive qualche anno in una prigione d'oro dove ce n'è di tutti i gusti. A un certo punto riesce a scappare, poi questo uomo muore, lei come moglie ha le reddità e questi soldi apparentemente sembra che gli diano gli strumenti per poter costruire, diciamo così, il suo futuro libero. Ora, il suo futuro libero è quello di andare ad abitare in un palazzo in riva del mare, c'è un appartamento, una serie di appartamenti dove ai piani inferiori ci sono i genitori, lei è l'ultimo piano e poi inizia tutta la sua vita. A parte essere tradotto, scritto male, non mi è piaciuto proprio come traduzione, però è lei che è pallosissima, cioè mettiamo che sia tradotto bene, mettiamo che sia effettivamente scritto in questo modo, è di un ridondante, di un palloso, di un, non lo so, sembra una ragazzina repressa che torna sempre sui soliti magoni e li rimugina, rimugina, rimugina e non esce mai fuori, anche quando sembra, alcune descrizioni, che lei si sia emancipata, sia una donna, eccetera, invece ha delle continue regressioni in quella che è la mentalità perversa, che deve inquadrare la donna di quel paese in un certo format, in un certo standard, quindi è veramente stata una delusione coccente e io lo cestino assolutamente. Bene, a presto, baci alla Nutella.